se ti serve un account moddato, ti servono aggiunte su xbox o vuoi dei completi moddati non esitare a contattarmi, iscriviti a tutti i miei gruppi telegram, next gen e all gen e se siete giocatori di playstation trovate in descrizione gruppi anche per playstation iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale youtube e adesso al nuovo video bella regà, qua è Xavix che vi parla, bentornati ragazzi e benvenuti perché è nuovo nel canale allora come già state guardando ragazzi come avete visto la copertina merge assurdo col completo dello shimio, delle soshquash ragazzi guardate che cazzo è uscito col cannocchiale comunque non ci incischiamo che adesso vi faccio vedere due o tre esempi così poi voi vi potete sbizzarrire e fare tutti i caschi mergeati con le maschere come vi piace e pare ragazzi ve lo giuro escono delle cose assurde comunque non ci incischiamo e ci dirigiamo direttamente nel nostro appartamento ragazzi io farò tutto lì perché ho gli slot pieni degli outfit quindi vado dall'appartamento regà e potrò fare tutto lì tranquillamente quindi regà ci dirigiamo dal guardaroba e andiamo a indossare il completo dello shimione il soshquash a questo punto una volta che l'abbiamo indossato regà dovremo andare giù dal cannocchiale e baggarci una volta che ci baghiamo regà dovremo andare a selezionare il completo dove vogliamo portare la maschera baggata del soshquash quindi mi baggo regà e poi vado a selezionare il completo in cui voglio mergeare la maschera e sbada bam regà guardate che cosa oscena ma bellissima è talmente brutto che è bellissimo ora vi faccio vedere un altro esempio regà con l'outfit che abbiamo fatto per halloween quello con la boccia di vetro in testa quindi come al solito mi sono rimesso il completo e poi vado mi baggo al cannocchiale e vado a indossare l'outfit quello che vi ho detto prima con la boccia di vetro questo qua ragazzi e una volta che ci allontaniamo e sbada bam regà guardate che bomba così con la boccia di vetro è veramente una figata quindi a questo punto cosa dire vi lascio a voi divertirvi lasciate un like se vi è piaciuto il video e alla prossima bella regà ciao Grazie a tutti